bene ragazzi e bentornati sul mio canale allora finiamo questa benedetta missione che mi sta occupando veramente tantissimo tempo allora ok questo qua fatto raccogliamo veramente veramente lunga bisognava fare 25 erbivori cioè ci sto mettendo una vita e mezza andiamo a evolvere questo qua acceleriamolo dovrebbe essere il ventitresimo ventiquattresimo non mi ricordo tra l'altro per sbaglio ne ho tolto uno quindi mi è tornato indietro di uno allora siamo al numero 22 ancora molto bene poi andiamo qua acceleriamo raccogliamo una roba impattibile proprio ragazzi ve lo assicuro ok numero 23 devo farlo tutto veramente subito questo qui ragazzi tra l'altro è un dinosauro che io ho scoperto adesso di non avere avevo tipo 8 da schiudere ma non l'avevo mai visto si vede che l'ho usato per qualche fusione sicuramente perché sennò non ne capisco il motivo mettiamo a livello 11 addirittura pure mi fa spiegare pure tutto il dna i dollari va bene ok raccogliamo siamo al numero 24 incredibile facciamo gli ultimi due qui ne ho ancora 16 cioè tantissimi non mi ricordavo veramente di averlo altro non è neanche brutto debolissimo perché va bene in comune però ok argentinosauro raccogliamo forse dai dai abbiamo finito la missione 8 9 10 evolvi inizio accelera dai forse tutto insieme venticinquesimo fatto fine missione veloce ok posizione a ce l'abbiamo fatta ragazzi 25 erbivori e 3 milioni di monete fatto ok anche se queste telecamere non possono trasmettere la sala controllo possono ancora registrare contengono circa un mese di dati biometrici molto bene avranno recuperato il raptor avrà abbastanza da di statistici per il suo progetto se fanno in fretta direi di sì allora poi guarda che ora quasi dimenticavo che in quelle paludi puzzolenti c'è un team scientifico molto bene non gli avevo concesso molto tempo ma quest'ora dovrebbero aver finito perfetto sposta quattro pozze di catrame intorno a un edificio ok intanto raccogliamo il pacchetto al volo ragazzi bene bene va bene punto tv allora spostiamo questo qui che a questo punto ragazzi è nuovo e lo mettiamo qua assolutamente non me lo ricordavo ma va bene così facciamoci ovviamente tutta la strada intorno perfetto molto bene vediamo che sia corretta anche dietro ok ottimo poi ragazzi vedi di fare evolvere anche questo qui già che ci siamo lo portiamo al 20 e basta tanto voglio dire ci costa nulla perfetto evolvi inizia accelera molto bene forza forza portiamolo al 30 ok ma guardate quanti quante risorse mi fa sprecare cioè una cosa assurda veramente dai ok 45 di dollari mi ha costato va bene però che ne ho tanti però ah ma questo qua si ce l'avevo già sicuramente l'ho usato per fare una fusione adesso me lo ricordo più o meno ok infatti il nome non mi era nuovo va bene poi e posizionare quattro pozze di catrame dovrei anche averne qualcuna se non erro allora intanto facciamo un edificio qua a caso prendiamo preparazione ok prendiamo un attimo questo lo mettiamo qua questo qua è una pozza di catrame no? sono uno due dovrebbe già essere a due perfetto e vediamo se ne ho altre già sparse tre quella volevo questa qua ragazzi è un video di gameplay proprio allo stato puro tre tanto se non l'avete ancora fatto ragazzi mentre cerco l'ultima pozza di catrame direi di iscrivervi al canale tanti like tanti commenti come sempre ragazzi così da portare il canale sempre più in alto siamo a 2600 iscritti che non è per niente male raga ok intanto aveva fatto anche questa missione qui ci da 64.000 monete di esperienza di 160 disniato spero di andare a livello superiore ancora no è una cosa incredibile mi sta durando una vita sto livello 55 dovremmo controllare il stato operativo raccogli 50.000 monete e raccogli 100.000 monete da un generatore elettrico va bene sicuramente questa non riesco a farla adesso ma la vedremo più avanti rimettiamo un attimo al volo le cose qua dentro uno e uno due ok dicevo questo qua ragazzi è proprio un video gameplay classico di quelli classicissimi e ci stanno una volta ogni tanto ci sta per far vedere un po di missioni un po di cose diciamo basilari questa era qua perfetto e l'ultima era là in fondo potremmo anche lasciarla qui effettivamente che ci fa solo bene magari qua ma si dai intanto mi da un po di percentuale a tutto quello che c'è intorno raccogliamo un po di monete ragazzi ok attiviamo tutto molto bene ok 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 di battaglia da fare in realtà non ne ho più a parte questa qua che non riesco assolutamente a vincere raga però vabbè ci proverò ancora dopo qui ok qui ok qui ho preso tutto e Jurassic Park Builder intanto ragazzi lo sto portando avanti ovviamente piano piano sto facendo tutte le missioni che mi mancavano poi le vedremo insieme e sono a livello non mi ricordo abbastanza alto comunque non il massimo ma abbastanza alto questa qui qui comunque non mi piace per niente spostiamolo perché è veramente brutto ok rimettiamolo qua dove era calazzo perché perfetto ragazzi allora proviamo a fare questa benedetta battaglia qui allora a questo punto ci voglio riprovare insieme a voi magari siamo fortunati due e tre la cosa scomoda è che sono tre carnivori e io devo usare tre anfibi ma sono veramente più forti suoi quindi ci vuole veramente tanto tempo facciamo una riserva una riserva sotto a lui e mi attacca sicuro come al solito ok e non mi ammazzo va bene questa è proprio la classica mossa che mi fa sempre adesso lo faccio fuori perché lui non ha più difese ok perfetto e il primo non è un problema è l'ultimo il problema di colloca 2000 e passa di vita adesso tocca a lui e mi fa fuori no ok ha deciso di non fare niente e meno male perché è meglio almeno faccio tre riserve ok ok e non ha più difesa ma con il prossimo in teoria già glielo ammazzo vediamo un po allora 1490 noi abbiamo 7 voglio dire 1490 1.6 faccio anche 4 riserve adesso vediamo un attimo come come procede con l'ultima battaglia forse non dico niente ragazzi faccio corn si riesce a vincere vediamo un po 2191 è tantissimo ok vedete che lui adesso non mi ha fatto assolutamente nulla io posso provare intanto a fare 8 di attacco lui si difende di 4 va bene come al solito però che immediatamente arrivavo a questo punto avevo già un dinosauro in meno l'abbiamo battuto ce l'abbiamo fatta ragazzi siete voi che mi portate fortuna vi giuro che l'avrò provata un paio di volte tutte e finalmente abbiamo ricevuto un pacchetto acquatico il dinosauro che c'è dentro ovviamente lo abbiamo già ma non è un grosso problema almeno lo portiamo al 20 un po di dna perfetto perfetto e questo qui che non è male comunque ce lo portiamo al 20 ma più che altro mettiamo da parte anche 500 punti vip che non sono per nulla male andiamo qui lo schiudiamo come vedete questo qui già lo abbiamo poi nel prossimo video ve lo faccio vedere e nulla ragazzi video veramente gameplay al volo vi ringrazio ancora come sempre per il vostro supporto i vostri like i vostri commenti spolliciate e cos'altro ragazzi ci vediamo sicuramente al prossimo video quindi state sul canale vi ringrazio ancora per tutti gli iscritti raga e ci vediamo al prossimo video